Salve a tutti, benvenuti alla quinta giornata del campionato Mavericks dal campo Oliviero. Hanno appena giocato le squadre Mavericks e Levi-White Coffee. La partita è conclusa per il risultato di 3 a 2 per i Mavericks. Presentatevi. Gianni Engo, KDR, Claudio Melone, Giovanni Serpe. Poi abbiamo il motivatore, allenatore, tutto. Giuseppe Baldi. E' l'unico tifoso a Bizzio Coppola. Ok, allora ragazzi, hanno segnato Di Matteo, Di Iengo, a chi lo vuoi dedicare? Lo voglio dedicare al nonno di KDR, che fa 83 anni. Aguri! Aguri nonno, un bacio! Aguri nonno, un bacio! Allora, questo sarà il primo ultimo gol che segnerò in questa edizione, vorrei fare un paio di ringraziamenti. Allora, per prima cosa, poiché Metafora ha dedicato il gol al nonno di KDR, io lo dedico alla mamma. Poi, io lo dedico anche a Simone L'Aventura, gli faccio così, e poi lo dedico a mio padre che è venuto a vederli, ragazzi. Bravo padre! Sì, ma sono due i gol, le divisi... No, io ho fatto un gol, però lo divido un po'. E' vero, uno? E' il primo e ultimo gol a farlo in questa edizione. Ok, va bene ragazzi, secondo voi, qual è il punto di forza della vostra squadra? Ovviamente la difesa. Poi? Allora, secondo me, parlando diciamo in ambito tecnico, diciamo che il punto di forza di questa squadra, secondo me è l'allenatore che ha riuscito a dare un'impronta a questa squadra. Ciao raga, non fate i cresciti! Eh, questo è. Un bacio alla Marex, ciao ciao! Va, un bacio alla Marex.